I cittadini del nord di Fiumicino hanno a disposizione una nuova e importante prestazione legata al trasporto pubblico locale. Per la linea 17 che va dal borgo di Palidoro a Tragliatella è attivo il servizio a chiamata. Per andare incontro alle esigenze di coloro che vivono in quell'area, la società Trotta e gli uffici comunali hanno previsto, dove necessario, la presenza di corse anche ogni ora, ha spiegato l'assessore ai trasporti Paolo Calicchio. Sappiamo che ci sarà bisogno di un po' di tempo per abituarsi alla novità, ma siamo convinti della bontà di questa scelta e speriamo che i residenti si abbalgano della linea. Per prenotare la fermata gli abitanti potranno chiamare il numero verde 800-893-575, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Alla prima telefonata l'operatore chiederà i dati anagrafici, un recapito telefonico e un email di riferimento. Da quel momento all'utente verrà assegnato un codice da usare per le future chiamate. La prenotazione verrà accettata se nella stessa fascia oraria è già stata richiesta un'altra fermata, anche nelle vicinanze.